Ho rotto le uova in una teglia, le ho sbattute con il latte, ho aggiunto la vanillina, la noce moscata, lo zucchero, la cannella, il succo d'arancia, poi ho inzuppato il pane, ho rosolato il pane in una padella con un po' di burro e olio e ho guarnito il tutto con una macedonia sciropposa di fragole. Grazie